Invito la Light & Color per l'intervento, Cristina De Mata, Luca Di Cecca, Umberto Salerni. Come l'anno scorso, sì venite qua, Caterina, tra l'altro Caterina è la figlia del professore Luca De Mata, come ho detto all'inizio è colui che ha permesso questa attività oggi qui in fondazione, che ci ha ospitato. Più tardi spero riesca a intervenire il professore De Mata, purtroppo ha vari impegni, non credo riesca, spero possa venire, lo vorrei veramente ringraziare di persona. In tal caso più tardi parlerà Cristina, parlerà Caterina, magari ci trasmetterà un messaggio del professore De Mata. Bene, Light & Color, anche l'anno scorso a Foligno sono intervenuti, sono venuti e hanno portato un loro progetto, quest'anno ci portano un progetto al quale stanno lavorando. Non siete microfonati, vi lascio il mio microfono, va bene? Grazie di essere qui, prima di tutto io non amo molto parlare in pubblico, per cui siamo felici soprattutto di ospitarvi in questo che era Palazzo Bess, questa era la sala da pranzo e qui ha lavorato anche Einstein insieme a Michele Bess sulla teoria dell'elettività, quindi è un posto dedicato all'innovazione, speriamo che questo sarà un passo anche nella conferenza di Blender. Il obiettivo che vi presenteremo invece è Giù dal nido, una serie in 360 gradi in Briere che stiamo realizzando con la RAI, con un'idea di Anna Giuricovic dato, con i disegni di Fabio Santamaro, con lo storyboard e la modellazione di Luca e l'animazione di Umberto. E poi altri del team che si aggiungeranno in seguito. La serie parla di un uccellino che ha paura di volare e come supererà questa paura nel corso delle puntate, anche attraverso un piccolo innamoramento, l'amicizia. Passa a Luca che mi sembra che hai parlato anche troppo. Grazie. Abbiamo iniziato a lavorare a questa serie da qualche mese, in realtà siamo ancora in una fase di sviluppo assieme a Fabio e Umberto soprattutto, nel tentativo di creare uno stile, ovviamente tutta la produzione è fatta con Blender, ma comunque rispondente principalmente a uno stile definito, nel senso che, come un altro corto che abbiamo presentato l'anno scorso alla conferenza, ci avvaliamo di uno stile molto definito che è quello del nostro illustratore di fiducia, che è un illustratore molto affermato nel campo dell'editoria per ragazzi. E quindi presentare questo tipo di mood estetico attraverso non la ricerca di un fotorealismo come magari erano altri lavori con cui abbiamo approcciato, ma con questo aspetto. In più con l'aggravante di fare una serie che sarà presentata in due versioni, una flat 16.9 e l'altra 360 e questo creerà alcuni problemi perché la maggior parte delle cose sono dei disegni mappati su dei piani, quindi comunque una versione 360 creerà alcuni problemi, gli stessi personaggi compositati con dei disegni risultano non essere perfettamente nello stile, quindi è ancora un progetto work in progress che comunque dovremmo consegnare anche in termini brevi. Ci saranno tanti personaggi, diciamo che oggi presentiamo poche cose e un piccolo trailer che è stato utile anche per la presentazione del progetto anche a Cartoon Sword Bay a Torino, dove comunque è stato visto con una buona attenzione, è stato apprezzato. E niente Fabio se vuoi dire qualcosa tu sullo sviluppo dei personaggi, intanto non so cosa c'è nelle slide, altrimenti voglio salvare le spese. Più che altro se, vabbè intanto buongiorno, io sono l'affermato illustratore che sta lavorando con LC da un po' di anni e vabbè insomma sto dando un po' la mia impronta stilistica ai lavori appunto che Caterina e Luca e Umberto portano avanti e diciamo che la sfida principale è quella proprio di adattare il mio stile che comunque è uno stile illustrato, pastellato si può dire, al 3D e quindi questo è un po' io sto facendo impazzire infatti in questo periodo Luca che con le mie richieste, ieri ho chiesto se poteva fare un albero in 3D però con la chioma glitterata e lui ha fatto una faccia un po' perplessa. Però vabbè, questa presentazione abbiamo messo proprio i primi concept che, adesso andando avanti, ecco avete visto un po' quello è uno dei miei primi schizzi iniziali dell'uccellino e poi lo stiamo traducendo ovviamente in 3 dimensioni con, mischiando però nell'ambiente tridimensionale anche degli elementi 2D e quindi illustrati proprio appunto che non hanno una tridimensionalità. Questa serie ha una doppia difficoltà perché Rai che comunque sta preacquistando ormai diciamo ha presentato la serie per la prossima stagione quindi questa è una serie che andrà su Rai Yo-Yo e sull'applicazione quindi mobile di Rai Yo-Yo e quindi avrà questo più, per la prima volta Rai sta producendo un prodotto a 360 gradi quindi una serie con un unico punto di vista in cui lo spettatore, quindi in questo caso il bambino o i genitori possono ruotare intorno all'azione e questo per noi è comunque anche difficile perché dobbiamo studiare bene l'inquadratura e come far comunque capire quello che sta succedendo da qualsiasi angolazione, però insomma poi i tecnici sono loro e io insomma diciamo che in questa fase poi subentrerò dopo. Io direi adesso di far vedere il trailer, il teaser e così Umberto poi ci dice magari quali sono state le difficoltà nell'animare questi personaggi. un'animale Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Umberto Salerni, animatore per il resto LC. A differenza dell'anno scorso, dove per chi c'era abbiamo portato dei progetti analizzando anche le scene all'interno, quindi sia il progetto in 2D che in 3D, facendo vedere anche i diversi aspetti dell'animazione, per questo progetto non siamo ancora entrati nella parte vera e propria dell'animazione. Questo era un primo test, appunto, flat per questo 16 noni, anche se in realtà l'animazione sarà studiata più sul 360 gradi. Quindi questo qui, appunto, era un test. Quello che vogliamo fare a livello dell'animazione è soprattutto concentrarci sull'espressione dei vari personaggi che ci saranno, quindi molto sugli occhi e le sopracciglia utilizzeremo, appunto, per cercare di trasmettere le emozioni di questi personaggi. L'altro punto d'attenzione in cui ci metteremo un po' a studiare è per quanto riguarda la parte di volo, perché poi chiaramente questi vari uccellini voleranno intorno a tutto l'ambiente e questo ci aiuterà anche a portare l'attenzione del bambino e aiutare lo sguardo a seguire, appunto, questi uccellini che volando gli faranno vedere tutto intorno il bosco e le varie scene secondarie, animazioni secondarie che ci saranno. Sì, per adesso, ecco, questo possiamo dire, questo test è molto, era più che altro per capire, è tagliato anche, in realtà ci sarà la caduta e altre scene d'azione di questo tipo, però su questo, ecco, non posso dire più di tanto. Ah, che su Sketchfab e su tante altre piattaforme ci sono tanti, tanti esempi di cose di questo genere, non è facile, diciamo, tradurre in uno stile ben definito un'illustrazione, e diciamo che più che tecnica, questa volta è più una sfida, diciamo, artistica in realtà, cioè, nel senso, proprio nella traduzione di un'illustrazione che comunque di per sé è già definita, quindi la, diciamo, la componente tecnica, diciamo, degli asset sarà molto semplice, in realtà, poca modellazione e tanti piani, in realtà è proprio, diciamo, la definizione di uno stile definito e quello su cui stiamo lavorando. Questo è un work in progress, è un teaser che comunque già è piaciuto, però, insomma, c'è ancora tanto da lavorare e niente. Ma l'anno prossimo nel dettaglio? Sì, sì. I personaggi non sono neanche definitivi, perché... No, no, no. Possiamo mostrarveli, perché comunque siamo, insomma... Sì, ragazzi, diciamo l'altro. Sì. Appunto, come dicevo, i personaggi non sono neanche quelli definitivi, perché giustamente siamo in produzione, quindi non possiamo mostrare adesso qual è il look finale, però, appunto, io ho già sviluppato tutti i personaggi, che comunque non sono pochi, che sono almeno, sì, una dozzina, credo, e quindi anche il protagonista, che è il nostro uccellino blu, ha già cambiato un po' aspetto, e quindi io sto lavorando anche molto sulle texture, in modo da rendere veramente questo 3D molto, molto illustrato, e quindi con uno stile super definito, e anche un po' per differenziarci da altri prodotti, che, insomma, di serie TV per questa fascia d'età di bambini, che comunque è il preschool, che già esistono, come poco io, quindi con uno stile, appunto, un 3D molto tune, però, appunto, a me interessava, invece, introdurre proprio un aspetto molto più illustrato, che sembrasse quasi un libro, appunto, un libro da leggere, quindi poi, chissà, poi in futuro svilupperemo anche quelli. E se non c'è altro, Caterina, vuoi salutare? Sì, le musiche sono di Dario Vero, che è un musicista che ha lavorato molto nell'animazione, ci sta seguendo, insomma, compositando praticamente tutte le musiche originali per questa serie. Siamo una bellissima squadra, e sarà, secondo me, insomma, interessante poi arrivare al risultato finale, e spero che alla RAI piaccia, e soprattutto ai bambini, questo prodotto, insomma, piaccia in modo da avere, poi, progetti futuri ancora più, insomma, originali e, insomma, provanti per noi a livello creativo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie.